Leonardo Silva Revisore Buonasera a tutte e tutti. Non vi vedo, purtroppo. E sono molto grato di questa opportunità, anche a chi è organizzato, perché posso condividere con voi non solo di ciò di cui mi occupo professionalmente ma ciò che è un po' la mia passione come cittadino cioè il ruolo di noi cittadini rispetto alle scelte importanti che dobbiamo fare nel mondo contemporaneo e allora siccome faccio il prof comincio con l'indovinello non è un'interrogazione qual è quel paese, il membro della UE comincia per i che recentemente ha introdotto i matrimoni gay Irlanda, brava qualcuno avrà pensato l'Italia noi non abbiamo introdotto i matrimoni gay, vero? e va bene, l'Irlanda i media hanno parlato molto di questo perché è un paese cattolicissimo, no l'Irlanda? e un anno fa circa l'80% degli irlandesi in un referendum ha approvato questa innovazione cosa era successo? però i media non ci hanno detto che questo era l'esito finale di un lungo processo avviato un paio d'anni prima dal Parlamento irlandese dalle elite politiche che hanno preso atto della crisi profonda che dal 2008 attraversava l'economia e la politica irlandese hanno detto dobbiamo cercare un altro sistema per cambiare la nostra Costituzione che risale al 1937 e hanno avviato quello che si chiama una Convention on the Constitution potete anche guardare il sito se vi interessa come era composto? 199 partecipanti 66 erano cittadini comuni un uomo e una donna per ogni collegio elettorale d'Irlanda che per un anno si sono incontrati una volta al mese insieme a 33 parlamentari la metà in minoranza quindi attorno a tavoli con facilitatori ascoltando opinioni diverse anche contrastanti su dieci temi non solo i matrimoni omosessuali il reato di blasfemia che era nella Costituzione irlandese quanto deve stare in carica il Presidente della Repubblica? il sistema, udite udite il sistema elettorale dell'Irlanda ogni volta hanno dato un rapporto delle volte con opinioni diverse le hanno mandate al Governo e al Parlamento e in alcuni casi sono introdotti con leggi ordinarie altre volte con un referendum come questo che ho citato ma nessuno ha detto che contemporaneamente gli irlandesi hanno votato per l'età minima del Presidente della Repubblica una questione diciamo così più tecnica e hanno detto va bene così quindi i cittadini irlandesi hanno saputo distinguere e perché? perché questo processo li aveva come dire, data la possibilità di informarsi di valutare di soppesare per bene le loro posizioni e l'80% ha votato per i matrimoni omosessuali bene, questo ci porta al punto dove voglio arrivare e cioè la democrazia sta di salute beh, mica tanto bene se guardate questa rilevazione che è stata fatta fra un buon numero di paesi a democrazia rappresentativa vedete che solo il 40% in media dei cittadini dei paesi democratici pensa che la democrazia sia assolutamente importante cioè meno della metà non andiamo tanto bene cosa dite e la democrazia come sapete è una creatura quindi piuttosto fragile e anche rara nella storia dell'umanità quando è che la polis greca alcuni comuni medievali italiani avevano forme di autogoverno e poi alla fine del Settecento la rivoluzione francese americana che introducono un altro tipo di democrazia quella basata sulla rappresentanza giusto? la giustificazione era che siccome le distanze la scala dei paesi moderni la Francia l'America non si poteva più partecipare come l'antica Atene ma era anche un modo per far sì che a governare fossero i cosiddetti i migliori cioè le elite mica tanto democratico bene allora oggi la democrazia vive una situazione paradossale per un verso è la forma egemonica di governo nel pianeta circa il 60% dei paesi godono delle libertà politiche connesse alla democrazia ma per l'altro verso sappiamo bene che la democrazia sta attraversando una crisi di parolina chiave fiducia questo è una rilevazione scusate fra i paesi della UE e vedete che non solo il livello di fiducia nella UE e nelle istituzioni nazionali parlamento e governo è basso ma è anche decrescente è in calo un segnale piuttosto preciso allora in particolare sono in crisi i due canali partecipativi su cui si fonda la democrazia rappresentativa elezioni le ultime elezioni regionale in Emilia Romagna votate il 37% e i partiti politici nessuno si iscrive più a un partito ma non solo in Italia bene quindi se questa è la situazione i regimi sono la democrazia ha un bivio da una parte c'è una strada che si chiama meno democrazia la democrazia è ridotta a spettacolo mediatico a prendere decisioni sono soggetti come multinazionali la finanza globale la criminalità organizzata non sottovalutate le aziende informatiche e c'è il rischio come dire che ci rimanga solo il guscio esterno della democrazia ma la sostanza la polpa di chi ha potere di chi decide l'altra strada si chiama più democrazia diceva molto tempo fa un signore che si chiamava John Dewey che i mali della democrazia si curano con più democrazia allora più democrazia significa coinvolgere i cittadini cioè la partecipazione ora vi chiedo che cos'è la partecipazione ognuno pensi dentro di sé magari un attimo e proviamo a fidarci a questo signore che cantava la libertà e partecipazione e diceva una cosa molto vera libertà politiche e partecipazione e democrazia sono strettamente connesse però non ci dà una risposta soddisfacente perché oggi se pensiamo a partecipazione non sappiamo bene cosa sia sociale politica l'assemblea bene allora io vorrei provare a prospettare un tipo di partecipazione un modo di declinarla molto preciso che è frutto della convergenza di tre matrici di cultura politica una che viene dalla Sud America una che viene dal mondo anglosassone e una che viene da alcuni paesi in nord Europa come la Danimarca e la Germania e queste tre matrici culturali si sono fusi in quelle che oggi si chiama partecipazione deliberativa e cerco di farvi intravedere come questa sia diversa dai modi usuali di intendere la partecipazione politica vediamoli una volta inclusione bella parola molto in uso che significa significa chi partecipa generalmente a partecipare sono chi gli stakeholders i gruppi di interesse organizzati le amministrazioni pubbliche consultano sempre questi soggetti domanda non hanno mica un mandato democratico forse è una forma di corporativismo più che di democrazia l'altra opzione sarebbe coinvolgere il demos il popolo i cittadini semplici per così dire come hanno fatto in Irlanda l'altra questione è se coinvolgiamo i cittadini semplici come li scegliamo in modo usuale si annuncia una riunione un'assemblea chi vuole viene e chi viene i soliti noti i cittadini attivi ottime persone ma che rappresentano solo se stesse o quelli molto preoccupati di una specifica decisione manca la voce della collettività di una comunità nel suo insieme come possiamo ottenere questo? attraverso il campionamento noi usiamo il campionamento da quasi un secolo da quando Gallup inventò i sondaggi e crediamo ai risultati dei sondaggi usiamo il campionamento in moltissime altre attività ma in politica questa cosa non suona mica tanto bene eppure il sorteggio è stato utilizzato sia nella polis greca che nei comuni medievali italiani e perché? perché l'idea era che l'unico modo di impedire agli aristocratici ai nobili ai ricchi ai potenti di occupare le cariche pubbliche sia quello di consentire a tutti di farlo e nella polis greca davano un compenso giornaliero da ogni cittadino che ricopriva una carica pubblica perché questo era l'unico modo di rendere possibile che lasciassi trascurassi i suoi affari privati per dedicarsi alla cosa pubblica secondo caratteristica l'informazione noi abbiamo opinioni ma sono grezze cerchiamo di elevare il livello di informazione siamo una società molto sofisticata quindi incorporiamo dati conoscenze ma anche preferenze sociali che sono complesse articolate siamo una società plurale ed eterogenea ognuno di noi vuole molte cose anche in contrasto tra di loro se ci pensate l'altra sfida è gettare dei ponti tra che? tra i saperi dei cittadini comuni e i saperi esperti non vogliamo buttare gli esperti fuori la finestra ma non gli deleghiamo scelte che sono di carattere valoriale su cui solo noi possiamo scegliere volete nucleare o no? lo facciamo decidere ai fisici nucleari o decidiamo noi cittadini i rischi che vogliamo correre? un esempio di ponte di questo tipo ce l'ha offerto Genova questo è il viadotto Morandi sopra il torrente Polcevera otto anni fa la sindaca donna notate bene dice basta sono vent'anni che questa autostrada è intasata non se ne esce con i soliti meccanismi proviamo qualcosa di nuovo prendiamo il dibattito pubblico che usano in Francia dagli anni 90 e facciamolo su questa vicenda qui società autostrada arriva con cinque tracciati e i cittadini ne propongono un sesto molto meno impattante e società autostrada l'accetta in altre parole la creatività dei cittadini i loro saperi la conoscenza dei luoghi gli ha permesso di arrivare a una decisione migliore dialogo significa ascolto ma perché ci si ascolte rispetto della diversità di opinioni guardate che la diversità non è il problema la diversità è la nostra ricchezza e per arrivare a questo cosa dobbiamo fare creare un clima appropriato si usano dei metodi il world cafe l'host qualcuno qui ha mai fatto un host o un world cafe o un town meeting manine qualche manina c'è quindi sapete di cosa sto parlando attenzione però che non ci fermiamo alla forma il formato Leopolda qualcuno l'ha chiamato no non bastano i tavolini col facilitatore c'è dell'altro come vedrete tutto questo serve a soppesare deliberazione non significa decidere significa bilancia soppesare cosa? i vari corsi d'azione e le loro implicazioni e poi decidere in che modo in maniera possibilmente condivisa consensuale cercare accordi se ci ascoltiamo capiamo le nostre differenze e perché siamo diversi forse possiamo trovare un terreno condiviso tutto questo però comporta che cosa? una restituzione del potere a chi? al popolo sovrano articolo 1 della costituzione italiana ce lo dimentichiamo sempre il popolo il popolo è sovrano però dice salvo poi che nelle forme la nostra costituzione stabilita la legge e quindi qui ce l'hanno già tolto il potere questa è la scala della partecipazione molto spesso la partecipazione al primo livello l'amministrazione fa una bella assemblea ti informa di ciò che ha già deciso oppure consultazione consulto chi? i gruppi di interesse saliamo questi gradini condividiamo il potere fra cittadini e governanti o in alcuni casi deleghiamo la scelta ai cittadini esempio di empowerment il bilancio partecipato ne avrete sentito parlare tutti hanno sentito parlare di Porta Alegre fino agli anni 80 ha avuto un enorme successo migliaia di comuni nel mondo fanno BP questo è un esempio che viene dall'India migliaia di contadini con scarsi livelli di istruzione hanno discusso di come usare le scarse risorse finanziarie che avevano nel Kerala sud dell'India prima si è parlato di cambiamento climatico il primo processo partecipativo deliberativo globale è avvenuto nel 2009 in vista del summit di Copenhagen che citava prima Luca Lombroso il worldwide views on global warming in vista del summit di Copenhagen i cittadini campionati 36 paesi del mondo compresa l'Italia qui a Bologna l'abbiamo fatto hanno parlato di cambiamento climatico e mandato i loro input a Copenhagen tecnologie la nostra vita è piena di tecnologie abbiamo sentito parlare di internet stamattina eccetera bello le tecnologie possono essere buone o cattive vogliamo parlarne? vogliamo valutare prima che entrano la nostra vita i danesi l'hanno fatto il technology assessment in Danimarca si fa con i cittadini che ascoltano gli esperti di vari unitamento ne discutono e poi presentano le loro considerazioni al paese ai media e al parlamento danese attraverso un format che si chiama consensus conference sistemi elettorali altri temi che riguardano l'Italia ne discutiamo da un pezzo il problema è che i partiti non si metteranno mai d'accordo perché grandi partiti hanno interessi completamente diversi da quelli piccoli lì la discussione è solo partigiana e strumentale British Columbia provincia del Canada 160 cittadini un uomo e una donna da ogni collegio elettorale hanno discusso per un anno di sistemi elettorali sono diventati esperti hanno proposto un sistema che è andato a referendum il 57% dei cittadini di questa provincia ha votato a favore di quella loro proposta fatta da loro pari disastri naturali anche qui terremoti calamità in Italia non mancano si possono affrontare coinvolgendo i cittadini Twin Towers a New York come ricostruirle ne hanno discusso 2000 cittadini metterono parenti delle vittime metterono cittadini sorteggiati e quello che vedete oggi a New York è il risultato di questo processo New Orleans finito sotto le acque di Catrini il piano di ricostruzione discusso coi cittadini New Orleans fra l'altro dispersi per tutti gli Stati Uniti grazie all'informatica tutti hanno potuto discutere e elaborare i piani di ricostruzione alcuni di questi processi sono stati promossi dal basso non solo dalle istituzioni in Australia in Belgio proprio per rispondere alla crisi di legittimazione della politica il G1000 in Belgio invece del G20 1000 cittadini non è utopia e non è solo all'estero la Toscana ha fatto una bellissima legge che incorpora questi principi nel 2007 e grazie a un sostanzioso finanziamento 700.000 euro all'anno la partecipazione costa qualcosa ma meno forse della politica istituzionale hanno discusso hanno fatto oltre 100 processi partecipativi in questi giorni si è parlato dei referendum inglese in Colombia che hanno dato esiti ci hanno lasciato un po' sbigottiti se avessero fatto come fa lo Stato dell'Oregon dove un gruppo di cittadini estratti a sorte discute le questioni che vanno al referendum pubblica un depliant che va in tutte le case i cittadini votano è stato misurato scientificamente in maniera molto più consapevole informata di quanto non si faccia oggi forse il referendum a cui andremo il 4 dicembre beh questo forse ci avrebbe aiutato un po' a scegliere meglio cosa dite per finire i cittadini sono ignoranti non sono interessati diamo la risposta al grande politologo italiano di 500 anni fa che disse quanta la prudenza e la stabilità dico come un popolo è più prudente più stabile e di miglior giudizio che un principe se l'ha detto l'autore del principe forse merita di essere preso in considerazione grazie 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 a tutti